La Fondazione Creto Bergamasco presenta una serie di attività di grande interesse culturale. Partiamo con i Pugilatori di Giovanni Testori, sono opere di una grande importanza, datate inizio anni 70, che per la prima volta vengono radunate tutto insieme. Si tratta di pitture materiche, intense, che ripercorrono l'intero ciclo della vita di uno spogliatoio, dal momento dell'allenamento fino all'incontro e poi al K.O. finale. La mostra dei Pugilatori di Giovanni Testori si innesta nell'ambito delle celebrazioni che ricordano il ventesimo della morte del grande artista e del grande drammaturgo. Per questo, a fianco della mostra, abbiamo inteso percorrere nell'ambito della nostra sede un itinerario molto testoriano. Innanzitutto presentando un artista bergamasco del 500, Gian Battista Moroni, che Testori amava moltissimo. Questo l'abbiamo fatto con la raccolta di 5 dipinti, tutti di collezione privata, che esponiamo con grande orgoglio. Questo perché dopo tanti anni si riesce a presentare in un luogo che non sia Palazzo Moroni il Cavaliere in Rosa, certamente una delle opere più importanti della produzione artistica di Moroni. Abbiamo pensato di consentire al pubblico bergamasco di vedere qui da noi per l'ultima volta il Cenacolo di Allori. Cenacolo che abbiamo riscoperto dopo anni, anzi secoli di oblio e che ora con grande soddisfazione presentiamo al grande pubblico. Dopo questa esposizione che faremo fino alla fine di maggio, restituiremo il dipinto al Comune di Bergamo, con una pressante sollecitazione e cioè che venga trovata una collocazione definitiva adeguata che non riporti il grande dipinto così adeguatamente restaurato nell'oblio in cui era stato lasciato.